Salve amici del Centro Meteo Italiano. Blanda saccatura in transito con qualche pioggia e neve sui rilievi. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 28 gennaio. Locali nevicate al mattino sulle arpi orientali di confine fin verso gli 800 metri. Deboli piogge anche tra Campania e Calabria, asciutto con molte nuvole altrove. Al pomeriggio precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Neve fin verso i 1200-1300 metri. Variabilità asciutta altrove. In serata è notata a tempo instabile sulle regioni del sud con piogge e acquazzoni e neve in calo fin verso gli 800-1000 metri. Stabile altrove con nebbie e nubi bassi al nord. Temperature minime in ulteriore rialzo, massime in aumento al nord e lieve calo al centro sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.